10 milioni di euro all'anno dal Ministero dell'Economia fino alla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. I senatori abruzzesi D'Alfonso Pagano e Bagnai, rispettivamente del PD, di Forza Italia e della Lega, chiedono a colpi di emendamenti che la norma venga inserita nel decreto Sostegni-Terre, che dovrebbe essere definito la prossima settimana. Il MEF già dispone un finanziamento di 2 milioni l'anno per la fusione dei piccoli comuni. I senatori chiedono di aumentare il tesoro volto alla nascita della città, che conterrà circa 250 mila abitanti, denaro che sarà necessario ad esperti professionisti esterni per l'unificazione dei servizi delle tre città, dalla raccolta dei rifiuti alla riscossione dei tributi, fino all'unificazione delle polizie locali. Del parto della nuova Pescara, Ostetrico potrebbe essere un commissario ad hoc, che finora però non è stato nominato. Secondo gli emendamenti, a firma dei tre senatori abruzzesi, il finanziamento plurimilionario con cadenza annuale potrà durare per un massimo di 10 anni, ben al di là quindi del limite del 2024 fissato per la fusione. Nel 2014 infatti c'era stato il referendum, vinse il sì con il 64%. Quattro anni dopo il Consiglio regionale approvò all'unanimità la legge che stabiliva modi e tempi della fusione, che dovrà avvenire entro il 2023. I tre sindaci potranno decidere un'unica volta di prorogare di un anno la data di scadenza. La nuova Pescara sarà divisa in municipalità, come avviene ad esempio a Roma, questo per garantire una sorta di autodeterminazione dei territori e soprattutto per salvare il ruolo degli amministratori. Non è ancora deciso però quanti saranno i municipi, se tre o più. Intanto si placa la polemica di quando una delegazione abruzzese portò la fusione sul tavolo della ministra Lamorgese in un incontro del 16 febbraio scorso organizzato da D'Alfonso. In quell'occasione non era stato invitato alcun rappresentante dei due comuni, cosiddetti minori, con grande offesa dei presidenti dei rispettivi consigli comunali. Giovedì scorso il senatore PD è tornato a Roma, ha incontrato il sottosegretario Garofoli, questa volta per Parcondicio ha portato con sé il sindaco di Spoltore di Lorito e il vice sindaco di Montesilvano Cilli.